Siamo qui con Alessia Merz, è un piacere intanto ritrovarti qui. Grazie a mio. Ovviamente segui da vicino le gesta tecniche di Fabio, un passato importante per lui in Serie A. Ecco, oggi che partite aspetti contro una località, contro una squadra famosa come Rimini? Oggi è dura, è molto dura. Per loro hanno una buonissima squadra e quindi... Però sai, non c'è niente di fatto, l'imprevisto, il gol all'ultimo secondo, la partita perfetta. Quindi, insomma, ce la giochiamo anche noi e speriamo ovviamente di portare a casa il risultato noi. Ovviamente, Fabio finalmente ritorna a giocare, è la sua prima partita dall'inizio, quindi insomma, è come se riniziasse adesso. Quindi speriamo faccia bene, però dovrà pian pianino ritornare in forma, insomma. Ho seguito molto da vicino Bazzani, me lo ricordo soprattutto come calciatori Serie A con la Sampdoria, con la Lazio, con i Perugia. È davvero uno spettacolo vedere, soprattutto nel campione di Serie D, un giocatore della sua esperienza e del suo calibro. Beh, lui infatti gioca come se stesse giocando ancora in Serie A, nel senso che fa ancora il suo ritiro il sabato, mangiando bene, non va a letto tardi, mangia cose genuine, ce l'ha proprio nel sangue. Quindi giocare in Serie D o giocare in Serie A per lui ha lo stesso impegno, ha lo stesso valore. Quindi quello è il bello e quello è quello che magari tutti i giovani potrebbero imparare da lui, no? L'impegno e la dedizione che ci si mette magari a 38 anni e ancora la voglia e l'entusiasmo come se fosse un ragazzino. Su diverse riviste nazionali ho letto che il successo della sua vita e della sua passione è dovuto anche e soprattutto a te. Questo è un grosso complimento. Sì, si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io confermo. Sì, confermi. Beh, allora è fortunata anche tua moglie, vedi? No, diciamo che abbiamo sempre passato tutti i momenti insieme, quelli belli, quelli brutti, e andiamo d'accordo, sono dieci anni e stiamo benissimi, quindi sicuramente io aiuto lui e lui aiuta me. Poi abbiamo due bimbi splendidi e quella poi è la gioia più grande per entrambi. Bocca al lupo per tutto e ovviamente. Grazie. Grazie, sono settilissime.